Dalle 11 di questa mattina può chiamare tranquillamente. Dalle 11 di questa mattina? Sì, dalle 11 fino alle 13 praticamente. Sì certo, guardi, le porto un foglietto e lo scrivo giù tutto. Parte la campagna per la terza dose vaccinale anche nelle farmacie comunali di Magenta. Nella farmacia nord di Via Boccaccio è stato ricavato anche un punto salute da adibire esclusivamente alle vaccinazioni aperte ora fino agli over 60 che abbiano ricevuto l'ultima somministrazione da almeno sei mesi. Ci troviamo finalmente nel punto salute dove i farmacisti finalmente sposeranno anche loro ed entreranno a far parte della campagna nazionale di vaccinazione anti-covid. Qui verrà inoculata la terza dose dei vaccini. È un punto che abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale, come assessorato alle farmacie e come staff delle farmacie. Infatti ci troviamo in zona nord a Magenta, a fianco alla farmacia di Via Boccaccio e qui abbiamo ricavato uno spazio che sarà a disposizione dei cittadini non solo adesso per l'emergenza covid, quindi con i tamponi che sono già cominciati da due mesi, ma anche per la questione adesso della somministrazione della terza dose di vaccini, che comincia appunto con le prenotazioni, le prenotazioni da lunedì 8 novembre dalle 11 alle 13, chiamando il 331 15 08 307, un numero che è a disposizione dei cittadini, di tutti i cittadini, che hanno fatto almeno da sei mesi la seconda dose di vaccino. E sono sopra i 60 anni o sono operatori sociosanitari. Qui dentro poi cominceremo a inoculare le dosi grazie ai farmacisti che nel mese di giugno si sono formate adeguatamente per rispondere alla chiamata del Servizio Sanitario Nazionale e in tutta sicurezza e anche al caldo, mi viene ad aggiungere, riusciremo a garantire una ancora più alta copertura del vaccino anti-covid. Grazie a tutti.